Le Amaranto rifilano un netto 5-1 al fanalino di coda a Caprera nel primo match del 2022 al città di Arezzo. La gara si mette subito bene per le ragazze dell'Arezzo calcio femminile che vanno in vantaggio al sesto con Orlandi su calcio di rigore. Al tredicesimo arriva il raddoppio corner corto di Vicchiarello per Mastel-Palla-Zelli al limite dell'area e destro di prima intenzione della numero 22 che termina alle spalle di Rossetti. Il Caprera ha un moto d'orgoglio al venticinquesimo quando Manea spiazza Aliquò su rigore concesso per farlo di Ferretti su Caccamo firmando il 2-1. L'Arezzo torna in attacco e sigla il 3-1 con Razzolini al secondo dall'intervallo. La seconda frazione di gioco aperta con l'esordio di Sieca subentrata in porta ad Aliquò è una pura formalità per la formazione di Testini che arrotonda grazie alle reti di Razzolini sul rigore al sessantesimo e Vicchiarello con un pallonetto al settantesimo. L'Arezzo sale quindi a quota 31 a più 5 sul Pinerolo seppur con tre gare disputate in più. Sono contento per i gol, per come sono venuti, comunque erano preparati, erano studiati quindi le ragazze poi quando fanno le cose che durante la settimana facciamo vengono fuori anche delle situazioni interessanti. A volte magari si intestardiscono a fare cose diverse ma che fa parte del gioco del calcio loro devono sentirsi liberi di esprimersi al meglio. Mi piacerebbe che andando avanti riuscissero a crescere nella maniera più importante e esprimere le loro capacità e metterle al servizio della squadra. Ho visto un mister molto arrabbiato in occasione della rete subita anche perché probabilmente è stata una disattenzione. Onestamente mi dispiace e anche in maniera importante perché subir il gol è sempre fastidioso. Poi in una partita dove comunque sia era sotto controllo, dove non c'erano situazioni di pericolo è ancora più amareggiato. Sono rimasto, però va bene, continuiamo a lavorare, continuiamo a lavorare sull'attenzione, sulle marcature preventive, su tutto quello che serve alla nostra squadra per far sì che certe disattenzioni, certe situazioni non si creino. Abbiamo visto nel secondo tempo che lei ha inserito ragazze che era un po' di tempo che non giocavano. Sì, abbiamo dato la possibilità alle ragazze che era tanto tempo che erano fuori di giocare, oggi era una partita che ce lo permetteva. Abbiamo dato la possibilità a Carrozzo che erano sei mesi che non giocava di rientrare, a Lulli che veniva dal crociato di rientrare. Abbiamo fatto giocare Sabia che è una ragazza giovane interessante e la possibilità oggi ci stava di farla entrare. Poi tutte le altre, il portiere, Margherita Cirri, quindi un pochettino tutte ho cercato di dargli la possibilità comunque di riassaporare il senso del terreno di gioco che è la cosa più importante anche perché poi ci si allena tutta la settimana per giocare. In un campionato così difficile perché molte delle ragazze che hanno giocato in Serie B dicono che si può benissimo assomigliarsi alla Serie B dove molte squadre sono fortissime. Ho parlato con il vostro Presidente e mi disse tempo fa che se c'era l'opportunità di intervenire è contento fino ad oggi? Sì, abbiamo fatto quello che era giusto fare, abbiamo cercato di mantenere il gruppo perché alla fine era la base di tutto quanto. Abbiamo inserito due ragazze al momento, Mastel e il portiere, quindi per ora questo qua, poi se ci sarà qualcosa di diverso lo valuteremo, però al di là di tutto quanto dobbiamo lavorare su ragazze che ci sono state, cercare di farle crescere, di farle migliorare. Il campionato è lunghissimo, è difficile, l'abbiamo visto, l'avete visto, sapere oggi chi vincerà il campionato è veramente complesso. Tante squadre devono recuperare tante partite, quindi io credo che la vincitrice di questa stagione si deciderà nelle ultime partite.